Arriva la risposta dei residenti della ZTL di Vigevano ai numeri elencati durante il Consiglio Comunale. Al ritiro dei verbali il numero è sempre inferiore al dato che comunicano inizialmente dal comando della Polizia Locale. Chi vuole fare un unico ricorso ha bisogno di avere il numero esatto delle sanzioni. All'arrivo della prima può chiamare i vigili per sapere quante ne deve ancora ricevere. Quando il cittadino va a ritirarle però se ne ritrova meno rispetto a quanto inizialmente comunicato. Dove sono quindi le multe mancanti? Si domanda a Simone Varchelli, promotore della petizione avviata alla fine di febbraio. Il cittadino prova a darsi delle risposte insieme agli altri residenti, lamentando la mancanza di chiarezza nel sistema di notifica delle multe. L'unico dato certo è che delle 15.380 sanzioni solo 3.900 sono state ricapitate ai destinatari. Questo significa che nelle prossime settimane arriveranno ancora oltre 11.000 verbali. È chiaro che qualcosa non ha funzionato nella comunicazione e durante il periodo di prova. Chi ha controllato da luglio a dicembre ha davvero dato l'ok per partire. Perché chi stava sbagliando non è stato avvisato prima dell'entrata in vigore ufficiale? Si chiedeva a Kelly e con lui tutti i residenti del centro. I plurimultati ora rimangono in attesa di risposte dalla prefettura e dal giudice di pace. La prima udienza è fissata per il 2 maggio.